Ma Pelli ha mangiato il vasetto! Aspettiamo il risultato domani! Direttamente dalle valli! Allora siamo tornati a Mon Torfano, perché qua abbiamo il conte, attenzione, che se la prende a Mala, eccolo qua. Per i Teroni, quello lì è il Vesuvio. I trelli sono belli, belli secchi e polverosi. Se vi siete persi il video in gravel con il meccanico, avevamo annunciato il reparto animali. Qua abbiamo l'asino, manca il gufo! Poi abbiamo, oggi alziamo anche il coefficiente di difficoltà con i due benestanti altissimi della società della Brianza, tra cui Conte e Marchese. Perché per l'evento lui è stato ammaliato dal baffo del meccanico. Avvicinati! Perché il baffo in bici è tutto. Sudore e anche un po' di caccoline covid calano sul baffetto, si forma la brinetta. Le signore ai cimiteri del parcheggio dicono, ah sì, sono professionisti. Noi oggi ci siamo andati forte, Marco. E invece poi... Facciamo così, guarda! L'obiettivo è arrivare a rifare così e così. Esatto, ci arriviamo piano piano, step by step. Piano, piano. Non anticipiamo troppo. Brunate che è brinato! Che schifo! Oh Mirko, hai visto l'evoluzione della colazione? No, non ho visto. Ho tolto l'olio, olio di cocco. Che ha proprietà il must della nostra colazione dei campioni. Ho tolto l'olio. Che odore di merda però, porco duro! Questi sono gli effetti collaterali. Ho tolto l'olio, ho messo olio di cocco. Due cucchiai che ha proprietà che brucia i grassi. Mapelli ha mangiato il vasetto, aspettiamo il risultato domani. E poi, bianco dell'uovo e semi di lino e tacchino. Tacchino, tacchino, tacchino. Certo che se puoi scorrere e chiamarsi qualcuno non ti devi stupire. Vado io, vai te. Vado io, vai, vai. Sì, la spara! Questo strettino lì che è bello! Il follower di nome Ivo mi ha spiegato il motivo, Ivo, Ivano, non ho capito, il motivo per cui si chiama Montorfano, 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 orfano, è bravo, tu lo sai? Vedi? E allora sono più pranzolo io di te, figa, ovviamente perché Montorfano, perché se lo vedi dall'alto c'è solo questo cucuzolo e basta, intorno è tutto piatto, che figa, Montorfano. Alla prossima Oh Figa che bella è Comunque voi non lo sapete, ma il ragazzo qui di fronte è quello che mantiene il Bracobaldo. Sentiero della bassa Valtellina, appena Fontana ce lo permette, andiamo a gasare, faremo un bel video. Ma vabbè, cosa stai facendo? No, volevo tassù. Eh, perché? Così. Porco due ragazzi, figa, che professionisti. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Aspetta un attimo, eh, non idea dove si sale. Capito? 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 Ciao, erano più belle vita Niente sta qua, niente di che Quindi da Montorfano 4-5 discese, non mi ricordo più Gli altri ragazzi se ne stanno facendo ancora un'altra Io sono un po' stretto coi tempi, quindi devo andare via Marchino, abbiamo avuto un problema meccanico, quindi deve scappare via Se vi è piaciuto il video, un like La traccia trovate sempre sotto in descrizione L'iscrizione non vi costa nulla Alla prossima, ciao!